Buonasera a tutti e benvenuti alla 28esima edizione di Cariati Città della Tarantella. Questa sera siamo qui presso la sezione della Lega Navale di Cariati che ci ospita e che ci dà la possibilità di ascoltare questa proposta culturale con una proposta all'insegna sempre della continuità nell'identità e anche della novità. Continuità nell'identità perché stasera qui abbiamo i Calabrian Soul che sono un gruppo che porta avanti le tradizioni e la musica calabrese, anche il gruppo che fa questo in maniera nuova e moderna. E quindi abbiamo anche qui il segno della novità. Questa è una proposta diciamo culturale, quest'anno anche molto partecipata perché vive grazie alle associazioni e quindi voglio ringraziare, se vuole venire qui per un saluto, il Presidente della Lega Navale di Cariati, l'Avvocato Ferdinando Pantuso, che ringrazio per aver fatto sì che questo evento possa poi diciamo realizzarsi. Si, Avvocato vuole raggiungerci un attimo per un saluto e anche ringrazio gli sponsor che hanno dato con la loro ospitalità, hanno presenziato anche a questo evento che sono Telgato Pardo, B&B Palazzo Mascambruno e B&B Le Torri. Chiamerei anche il Vice Sindaco che è qui, l'Avvocato Leonardo Montesanto e gli farei un grande applauso per l'impegno che sta approfondendo nella sua opera amministrativa. Quindi passo la parola un attimo al nostro Vice Sindaco e poi all'Avvocato Pantuso. Buonasera a tutti, un saluto a tutti i cittadini cariatesi, i vacanzieri, un saluto particolare anche alla Lega Navale che come sempre è sempre disponibile e attenta a queste manifestazioni, un saluto anche e un ringraziamento agli sponsor come appena detto prima Assuntina Trento e anche ad Assuntina vanno i complimenti per l'impegno che ha profuso prima dell'organizzazione delle state cariatesi anche in questi giorni perché veramente c'è stato molto impegno da parte tua, penso che una tiratina d'orecchio invece a noi amministratori ce la dovremmo fare perché dobbiamo essere un po' più attenti ad eventi di questo tipo che secondo me meritano una participazione maggiore. Di questo magari cercheremo di rimediare alle prossime serate. Io diciamo che ho seguito, mi sono documentato su internet per quanto riguarda questo gruppo Calabrian Soul e diciamo che questa terra per essere il lavoro fondamentale della cultura e di valorizzazione di questa nostra cultura all'interno del nostro territorio. Io vi lascio buon proseguimento, buon divertimento e ai vacanzieri una buona permanenza. Buonasera, un saluto a tutti gli ospiti che sono venuti ad assistere a questa manifestazione musicale. È la prima volta che l'Ega Navale Italiana ha cariati e organizza un evento musicale. Abbiamo deciso di iniziare questo percorso quest'anno portando all'attenzione del territorio calabrese e cariatese soprattutto, un gruppo di maestri di musica nonché di vocalist che tratteranno e narreranno con la loro musica e le loro parole le tradizioni dell'intera Calabria. E questo seguendo quello che è un filo logico di valorizzazione del territorio calabrese e delle tradizioni calabrese. Ringrazio tutti e vi auguro una buona serata. Grazie all'Avvocato Pantusi e al nostro Vice-Singato Leonardo Montesanto. Una piccola nota che presenta il gruppo. Il significato di Calabria in Sol è Anima Calabrese. Questo gruppo nasce nel maggio del 2010 con la collaborazione di Umberto Viedo La Pellicola, un grande percussionista di grande fama presso l'Orchestra Folkioristica Nazionale di Cuba. Questo ha insegnato loro vari ritmi della terra cubana, la clave, il son cubano, il bolero e loro li hanno fatti propri nei pezzi che seguiranno. Il gruppo nasce dalla passione di sette ragazzi che hanno una grande voglia di fare musica e divertirsi e il loro intento è quello di far rivivere proprio la cultura, la nostra antica cultura. Ringraziando il Maestro Gerace Silvio per avergli fornito testi e musiche inedite in Sile Calabrese, testi che parlano della vita di ogni giorno, delle difficoltà della nostra terra e della crisi che stiamo affrontando. Quindi, Anima Calabrese e Ritmo Calabrese. Quando la voce suona e il suono parla, Calabria in Sol Grazie. 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Grazie. 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 Grazie.